Francesco Russo, 59 anni, è stato nominato prefetto di Salerno. Ha preso il posto di Salvatore Malfi, destinato all'ispettorato di amministrazione di Roma. Un cambio a vertice dell'ufficio territoriale di governo che arriva dopo due anni. Il nuovo prefetto arriva da Ravenna, ma è campano e di Napoli, ed ama il Cilento. Per il prefetto Russo è una grande emozione tornare a lavorare nella mia terra, in una delle regioni più belle, soprattutto di venire in una provincia come quella salernitana, che apprezzo da turista. Ora imparerò a conoscere anche il suo capoluogo. I tempi burocratici per il suo trasferimento non si conoscono, ma già nella giornata di ieri, appena ricevuta la nomina ministeriale, ha sentito al telefono i colleghi di Piazza Mendola per scambiare con loro qualche battuta.